Quale sarà il futuro di queste Alpi che sono la cerniera d'Europa, sono la colonna vertebrale di questa Europa? Grazie, grazie Alberto, grazie a tutti Daniele, tutti amici di Nodo di Gordio. Durante i tre anni in cui sono stato ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia, ho risposto volentieri agli amichevoli inviti ai sempre interessanti incontri di fine luglio che il Nodo di Gordio propone in maniera sofisticata e stimolante a tutti coloro che si interessano del presente e del futuro, il che ovviamente non può essere fatto senza la conoscenza e la consapevolezza del passato e della storia. Grazie per questa opportunità di poter condividere un pensiero dalla Slovenia, paese della parte orientale delle Alpi. La Slovenia, come tutti i membri della Convenzione delle Alpi, affronta le sfide dello sviluppo sostenibile dell'area alpina in un ambiente in evoluzione. Non c'è dubbio che il futuro sostenibile delle Alpi significa pensare ad uno sviluppo che tenga conto del patrimonio di questo territorio e che i paesi e le autorità sono obbligati a fornire sostegno alle persone che hanno creato questo patrimonio affinché possa essere nutrito, vissuto e tramandato alle nuove generazioni. Il mondo alpino rappresenta le regioni più montuose di Austria, Francia, Italia, Liechtenstein, Monaco, Germania, Svizzera, Slovenia e Unione Europea che più di 30 anni fa hanno riconosciuto l'importanza a lungo termine di questa area e hanno entro il 2000, quando la Convenzione delle Alpi è stata ratificata anche dall'Italia, completato il processo formale di costituzione di un importante collegamento per quest'area alpina tra gli Stati membri. In breve si potrebbe dire che i paesi alpini all'Unione Europea hanno concordato sulla protezione e sullo sviluppo sostenibile delle montagne alpine. La Convenzione è quindi oggi un quadro comune per sostenere la politica di protezione e rafforzare la cooperazione nei seguenti settori. Popolazione e cultura, pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, protezione del suolo, protezione della natura e conservazione del paesaggio, agricoltura di montagna, foresta di montagna, turismo e tempo libero, trasporti, energia e cambiamento climatico. A prescindere dell'idilio dell'area alpina che ci maraviglia ancora e ancora ogni volta che ci viene dato di ritornare da vicino e da lontano, di nuovo in montagna dove l'aria è più frizzante quando l'arrivo in vetà mette in secondo piano la fatica fisica e quando al vero amante delle piste bianche batte forte il cuore per le belle curve sulla neve. Ma questo idilio nasconde molti fatti belli e anche meno belli. Da un lato gli abitanti sono privilegiati, se così si può dire, perché vivono lateralmente nel cuore dell'Europa, in un clima relativamente favorevole e in un ambiente con molti corsi d'acqua. Dall'altro, invece, le condizioni geografiche e rilievi dell'area alpina rappresentano una grande sfida per il traffico, in quanto il numero dei collegamenti è limitato a causa della complessità del terreno, motivo per cui questi corridoi sono molto più trafficati. Le condizioni naturali difficili hanno un impatto più diretto sulla qualità della vita della popolazione alpina e sulle loro attività, ad esempio agricoltura verso agricoltura di montagna, rispetto ad altre aree. Le popolazioni devono inoltre infrontare altre numerose sfide, poiché il cambiamento climatico è più pronunciato che in altre aree geografiche e con esso anche l'esposizione ai disastri naturali e alle minacce del declino della biodiversità. Non è fuori luogo citare ancora una volta la recente valanga di ghiaccio e sassi sul ghiacciaio sotto la marmolada. Altro messaggio concreto della natura è che il riscaldamento dell'atmosfera sta pericolosamente avvicinando il pianeta al punto di non ritorno. Come per tutti i paesi, un problema particolare, specialmente per l'area alpina, è l'invecchiamento accelerato della popolazione e il defluso dei giovani da un lato e dall'altro la pressione del turismo e dell'urbanizzazione delle aree circostante le Alpi e di altre attività, ad esempio un maggiore interesse per l'utilizzo delle risorse naturali alpine per aumentare la quota di autosufficienza energetica. Secondo la valutazione della Slovenia, il punto di partenza chiave della Convenzione delle Alpi deve continuare ad essere l'uomo, l'abitante delle Alpi. La conservazione della popolazione nelle Alpi è anche la base per la conservazione del patrimonio naturale e culturale delle Alpi, poiché sono proprio gli abitanti i custodi di questi valori, quindi la Convenzione sottolinea la necessità di garantire le basi economiche e la qualità della vita per la popolazione delle Alpi. La dichiarazione popolazione e cultura della Convenzione delle Alpi chiede la preservazione dell'ambiente di vita, della qualità della vita e delle pari opportunità. Tra le misure elenca lo sviluppo sostenibile degli insediamenti alpini, la fornitura dei servizi di importanza generale e il rafforzamento della identità e del senso di appartenenza alle comunità alpine. Naturalmente le Alpi non sono isolate e devono risolvere alcune sfide in aree o insieme con la comunità delle zone pianeggianti intorno alle Alpi. La chiave qui è che nella ricerca di soluzioni sia utilizzato un modello basato sul luogo, poiché le soluzioni devono essere adattate alle specificità, alle caratteristiche e al potenziale dell'area. Ciò è stato dimostrato anche dal successo dell'inclusione nella strategia dell'Unione Europea per la regione alpina EUSALP, a cui partecipano 7 paesi alpini e oltre 40 regioni. E dove è la Slovenia in questa storia? La Slovenia partecipa a tre strategie macro-regionali. EUSALP per la regione alpina, EUSDEAR per la regione del Danubio e EUSAR per la regione adriatico-ionica, nell'ambito della quale collaboriamo ad esempio anche con l'Italia. Queste cooperazioni ci danno l'opportunità di collaborare e scambiare esperienze con diversi paesi e regioni. In Slovenia l'area che rientra nella Convenzione delle Alpi copre un terzo del nostro territorio. E approcciandosi all'ambizione centrale della stessa, adottare misure a beneficio degli abitanti delle Alpi, anche in Slovenia numerose preoccupazioni dei sindaci dei comuni alpini, che sono praticamente tutte mete turistiche interessanti, si manifestano molto rapidamente. Alcuni di loro, tra cui la famosissima Kranz Kagora con gare di Coppa del Mondo e di sci alpino o gare di salto e volo con gli sci a Planizza, si sono ritrovati con seri dilemmi su come regolare il numero di turisti alla cosiddetta capacità di contenimento dello spazio, già nell'ultima stagione prima dell'epidemia del Covid-19. È importante essere consapevoli che la qualità e la sostenibilità dell'area alpina dipendono in modo cruciale dalla popolazione locale e quando il limite della capacità di contenimento dello spazio sarà superato, le conseguenze saranno di vasta portata e molto probabilmente irreversibili. Anche in Slovenia la zona dei ghiacciai non è messa bene. Abbiamo un piccolo ghiacciaio sotto la montagna più alta, il Triglau, 2864 metri. Dal 1970 l'Agenzia Statale per l'Ambiente monitora e documenta regolarmente gli eventi sul ghiacciaio. Gli esperti fanno notare che oggi il ghiacciaio non ha più tutte le caratteristiche di un ghiacciaio come crepe o movimento glaciale, quindi si parla di ghiacciaio solo per via della sua storia quando indubbiamente aveva ancora tutte le caratteristiche dei ghiacciai alpini. Tra gli anni 1946 e 1952 ricopriva un'area tra i 13 a 16 etari. Oggi invece possiamo purtroppo dire che questo ghiacciaio praticamente non esiste più. I dati dimostrano che ad esempio nell'agosto del 1954 la temperatura media mensile a Crederizza era di 4,7 gradi. Nell'anno, che è stato un anno molto particolare, 2003, invece è salita a 10,2. Questo era davvero solo una cosa speciale, un anno particolare. Da ciò, cari amici, si può capire che l'intera area alpina è più con essa di quanto lo siano tra di loro i vari paesi a cui essa appartiene. Tutti noi affrontiamo le sfide della demografia, dell'ecologia, dello sviluppo sostenibile e del turismo, o dei trasporti e dell'energia. Ma nonostante tutte le sfide difficili, non vediamo l'ora di gioire dei grandi eventi sportivi che porteranno ancora una volta la fama dell'area alpina nel resto del mondo. A febbraio del prossimo anno la Slovenia ospiterà i campionati del mondo delle discipline nordiche con la partenza delle finali di sci di fondo maschile e femminile da Tervisio, in segno dell'ottima collaborazione tra la Slovenia e Italia e tra i comuni limitrofi di Tervisio e Crancagora. Anche la cooperazione nelle Alpi ha dimostrato che da soli non si può fare molto. Con essi e insieme invece si possono fare cose meravigliose. E lo hanno capito tanti sindaci progressisti, residenti attivi, uomini d'affari, soprattutto del turismo e dell'industria locale e dell'artigianato che hanno a cuore l'area alpina. Sono convinto che una cooperazione ancora più stretta a livello locale e regionale sia la chiave per creare soluzioni che alla fine saranno supportate anche a livello governativo. Anche il nostro governo che ha preso la responsabilità questo giugno a area alpina dentro delle priorità per il loro lavoro. Sono convinto che la regione alpina con i suoi circa 80 milioni di abitanti non possa essere trascurata, non solo perché è una delle regioni più ricche del mondo, ma anche perché è una regione economicamente estremamente dinamica, caratterizzata da eccezionali caratteristiche naturali e geografiche. La chiave del successo sarà bilanciare sviluppo e protezione con approcci innovativi per rafforzare l'area e sviluppare ulteriormente le attività economiche e sociali in modo sostenibile. Grazie.